Il dispiacere è tanto e comunque sia vedo tra virgolette buttato via un anno dove abbiamo fatto bene, abbiamo avuto delle vittorie importanti e dove potevamo coronare magari il nostro sogno, però dall'altra parte vedo che la situazione non lo permette e comunque sia magari ci avrei pensato un po' di più magari prima di buttare via tutto. Io e Leonora lancio questa sfida perché siccome sono un po' più anzianotta di Miriam, praticamente se dovessero arrivare al loro olimpico si deve sedere con una sedia come ha fatto Camoranesi, seduto in mezzo al campo e gli hanno tagliato lo scalpo in diretta in mezzo al campo. Consuelo, lo dico adesso, se vinciamo l'ora olimpico mi rasi tu in mezzo al campo. L'hai promesso? Mi taglio il capello. Grande, 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 no no, cioè con la medaglia d'orci mi sa capelli ma mi va più che bene, cioè sono proprio terena.